Grazie alla fondamentale partita giocata dal cittadino Gino Ruggeri prosegue la battaglia legale per il riscatto della città di Cremona dalla brutta vicenda di inquinamento legato all'attività della raffineria Tamoil. Comincia la fase del processo d'appello che sarà celebrato a Brescia e seguito dagli stessi avvocati. Il cremonese Romanelli e Romano Rosso di vita. Oggi c'è stato il vero e proprio passaggio di testimone da sottoscritto che si era sostituito al comune nel 2012 quando la giunta Perri aveva deciso di non costituirsi parte civile. La giunta Galimberti è subentrata e dopo la sentenza del luglio 2014 ha deciso appunto qualche mese fa di risostituirmi e quindi c'è un nuovo passaggio. Oggi l'avvocato Rosso di vita che con l'avvocato Romanelli di Cremona, Rosso di vita di Roma, hanno seguito tutto il processo di primo grado, sono stati incaricati dal comune per seguire il processo di appello. Ovviamente noi radicali siamo molto soddisfatti perché è quello che in sostanza avevamo chiesto appena dopo la sentenza. Avanti allora con una nuova fase processuale anche se esiste il rischio prescrizione. È molto interessante perché c'è stato l'appello sia dei dirigenti condannati come è ovvio, ma c'è stato anche l'appello della procura che ha alzato il tiro e chiede, sostiene che si tratta di un reato più grave, del disastro ambientale doloso e colposo della sentenza di primo grado e addirittura avvelenamento delle acque e quindi sarà interessante da vedere. Ci dovrebbe essere la prima udienza a gennaio, i processi di appello normalmente sono più brevi e quindi adesso io non sono in grado di fare previsioni, però da quando inizierà entro tre o quattro mesi dovrebbe esserci la sentenza. C'è il rischio prescrizione, poi dipende dal reato che verrà riconosciuto, il rischio prescrizione però c'è perché soprattutto per il disastro ambientale colposo. C'è poi il processo civile? Speriamo che il Ministero dell'Ambiente dia seguito a quanto ha dichiarato nella risposta all'interrogazione che avevamo presentato sulla mancata costituzione in giudizio e quindi che avvii l'azione civile. Qui sarebbe un risarcimento importante anche per il risanamento di tutta quella zona esterna alla raffineria che è stata inquinata, si tratta di una zona ambientalmente importante, si tratta di una parte del Parco del Po, quindi speriamo che venga avviato anche questo.